Ancora qualche balla e ho finito. Grazie, Rubble. I porcellini saranno davvero felici della loro nuova casa. E anche del loro nuovo cancello. Abitatore! Casa di paglia finita! Porcellini, prego! Oh, se ne sono innamorati. Il porcile è già piccolo per Emma e Corney. Ora i porcellini hanno uno spazio tutto loro per giocare. È vero che è piccolo. E loro sono così grossi che rimangono incastrati. Lasciate che vi dia una zampa. Wow, vi siete incastrati per bene. Ti aiuto io. Spingi! Oh, no! Che cosa c'è, Rocky? I tre porcellini sono nella mia cuccia. Sicuro che non sia solo un sogno? Ok, non è un sogno. Aspetta, Rocky. Buongiorno, come va, signora Yumi? Non bene, Ryder. Qualcosa ha distrutto la casa di paglia dei porcellini stanotte. I piccoli sono scompassi. Che disastro! E ho anche sentito degli strani ululati. Spero che non sia un lupo. Lo spero anch'io, ma i porcellini stanno bene. Sono al quartier generale ora. Grazie al cielo! E la Paw Patrol riparerà la casa di paglia e cercherà il lupo. Niente è faticoso per un cucciolo o un porcellino coraggioso! Abbiamo trovato molti rami, Ryder. Bel lavoro, amici. Costruiamo una casa di legno ai porcellini. Fatto! Dovrebbe bastare. Non c'è di che, porcellini. Mi fa il solletico. Ryder, i miei ospiti sono tornati. Va bene, Rocky. Arrivo subito. Sono davvero contenta di vedervi. Guardate la casa di legno. C'è stato molto vento anche questa notte. Non così tanto. E poi ho sentito nuovamente quello strano ululato. Non c'è da preoccuparsi, signora Yumi. Arriveremo in fondo alla faccenda. Ciao, Ryder. Che succede? Rubble, vieni con le scavatrici. Faremo una casa di mattoni. Rubble come un razzo! Sembra che anche questa casa sia stata mangiata, Ryder. Questa volta i segni dei denti sono davvero grandi. Denti grandi come quelli di un grande lupo cattivo? I lupi non mangiano il legno e nemmeno le mucche, quindi non può essere stata Bettina stavolta. Allora chi ha lasciato quelle impronte? Sono enormi. Ehi, qualcuno ha chiesto dei mattoni? Grazie. Rocky, puoi aiutare Rubble? Qualunque cosa per i miei amici porcellini. Pinza! Pala! Forza, costruiamo! Grazie, cuccioli. Questa casa di mattoni è davvero a prova di morso. Attimo lavoro, amici. E' appena in tempo. Si sta alzando il vento. Di nuovo! Wow! Ah, ecco il lupo! I lupi non si fermano a metà ululato. Strano. È come se l'avessero interrotto. O fatto cadere, forse. Quando il secchio è sul bordo del pozzo e soffia il vento... Ah, una specie di ululato. Forte! Come quando soffiamo nelle bottiglie. Abbiamo trovato il lupo. Che sollievo. Grazie di tutto, Ryder. In ogni occasione, noi siamo a disposizione. A proposito. I tre porcellini non hanno visto la nuova casa. Coraggio, piccoli! Che cuccioli! Sto facendo qui! Bravi più che noi! Ma adesso è tempo di giocare Adventure Bay. Ora abbiamo tutti bisogno di un bagno. Sì! Wow! È come se il fantasma non volesse farci entrare. Il capanno è molto vecchio. Oh, il fantasma! Guardate! Oh! Salve, Ryder! Salve, cuccioli! Sono io! Quando ho sentito quel rumore, ho deciso di nascondermi sotto questo lenzuolo. Forza, cuccioli! Puntelliamo il portico. Rocky, vai nel tuo camion e trova qualcosa per sostituire il palo. Ricevuto! Riciclare è meglio che buttare. Inchiuderò queste zampe di un tavolo. Sarà perfetto. Martello! Fantastico! Tu, Rubble, alza il tetto del portico con la gru. Ci penso io! Io e Jake terremo fermo il palo mentre Rocky lo inchioda. Nessun problema, amico. Pronto a sollevare! Artiglio meccanico! Chase, dacci una zampa! Ci penso io! Martello! Grazie, amici! Adesso è davvero perfetto! È stabile! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Ora pensiamo a questo fantasma. Chase, manda il tuo drone in aria, così vediamo se c'è qualcuno che si aggira in questo capanno. Certo, Ryder! Drone e spia! Spia! Lancio! Io sono pronto, Ryder! Ehi là! C'è un fantasma qui dentro! Forse ha... Forse ha da fare! Andiamo in fondo a questa faccenda! Scusate, è solo la mia pancia che brontola! Questo non è affatto odore di fantasma! Perché? Che odore ha un fantasma? Pauroso! Rubble! Ma dov'è finito? L'ho preso il fantasma! Ryder! Rubble è ancora lì! Ma non è solo! Non è solo! Ryder! Continuo ad abbagliare! Arriviamo! Io! Aspetto qui! Presto! Oh, no! Ryder! Sembra che Rubble sia dietro questa parete! Ryder, prendimi! Volevo dire che non ho paura! Non preoccuparti, Rubble! Wow, una stanza segreta! Forte! E quello cos'è? Wow! Sembrano... dei topi! Questo spiega il pranzo scomparso! Guardate! I topi stanno facendo muovere quel quadro! E accendono e spengono le luci! E fanno girare la porta segreta! Ho sempre saputo che non si trattava di un fantasma! Non so voi, ma io non ho mai avuto paura! Quindi, non c'è alcun fantasma? No, il mio drone rileva solo topi! Tanti, tantissimi topi! Ehi! Mi stanno facendo il solitico alle zampe! Ho chiuso l'ultima tanna dei topolini, Ryder! Questo significa niente più fantasmi! Sono contento che sia finita! Ma Ryder, i topolini non saranno tristi! Questo capanno era la loro casetta! Potremmo risolvere il problema! Non è vero, cuccioli? Una casa per topolini nuova di zecca! E con un tocco finale... A quanto pare apprezzano molto il distributore di noccioline! Grazie, Ryder! In ogni occasione, noi siamo a disposizione! Io ho una tavola da surf volante! Braccio meccanico! 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 Bene. Procedi pure, Skye. Mi servono altri chiodi e viti. Tranquillo, ci pensa Chase. Fune! Grazie, Chase. Nessun problema, Rocky. Ha sete. Che caldo. Skye, hanno tutti quanti una gran sete. Acqua! Grazie, Marshall. Mi serviva proprio una rinfrescata. Fune! Aiuto! Scusate, amici. Sembra che Mattea vi abbia ascoltato e abbia imparato ad imitarvi alla perfezione. Dimitarvi alla perfezione. Cacciavite! Non farlo, Matteo! dobbiamo evitare che la casa sull'albero cada sul nido. Tracker, usa i tuoi cavi per tenerla ferma. Cavi! Resisti, Rocky! Resisti, Rocky! Rubble, ci serve la tua gru. In fretta. Rubble come un raggio! ci è mancato davvero poco. Rocky, cerca di riattaccare l'asse di sostegno. Amigo, devi dire cacciavite per poterlo attivare. Ricordi! Rocky ha perso la voce. Non riesce ad usare il suo zainetto. Acqua! Ehi! Che succede, Marshall? Oh, no! Cavi! Carlos! Puoi far volare Matteo da Rocky e farle imitare la sua voce. Per azionare il suo zainetto. Giusto. Ci provo. Matteo, lo vuoi un cracker? Cracker! Cracker! Cracker in arrivo, Rocky! Forza, forza! Andiamo! Andale, amico! Veloce! Rocky, stiamo provando a far dire a Matteo cacciavite. Matteo, di cacciavite! Forza! Ah, sì! Rubble come un razzo! Cacciavite! Ci sono! Sì! Cacciavite! Cacciavite! Coraggio, puoi farcela, Rocky! Vamos, amico! Forza! Brava, Matteo! Adesso di... Martello! 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 Grazie per aver interrotto le vostre prove, cuccioli. Il signor L ha una grossa emergenza. Il tubo dell'acqua nel suo campo si è rotto. E ha chiesto aiuto per le riparazioni. Rocky, ci servono i tuoi attrezzi per riparare il tubo. Semofono verde, signore! Rubble, serve il tuo martello pneumatico e la tua escavatrice per levare i tubi vecchi. D'accordo, Rubble, come un razzo! Ruff, kami naturalmente. Pu-pu-pu-pu. Pu-pu-pu. Pu-pu-pu-pu. Puppa patrool! Pu-pu-pu. Pu-pu-pu. Rubble. Pu-pu-pu. Pu-pu-pu. Puppa patrool. Oh, grazie di essere venuti, Ryder. Grazie a Rubble e Rocky. Guardate, questo è il tubo rotto. Rubble, dobbiamo tirarlo fuori da lì. D'accordo, Ryder. Rubble come un razzo. Pala! Un cucciolo con una pala? Ma è incredibile! Però, devo dire che sono veramente straordinario. Sì, ma anche noi faremo un'ottima figura. No, se Rubble non arriva in tempo, non so come finirà. Spero che faccia in fretta. Bel lavoro, Rubble. Adesso porta via quel vecchio tubo. Coraggio, Cicaletta. Muovi le penne della coda. La polca di Cicaletta. Ora dobbiamo fissare questi tubi tutti insieme. Pinze. Perfetto. Bravissimo, Rocky. Ma ora ho visto veramente tutto. Le torte del numero del signor Porter mi stanno facendo venire una gran fame. Anche a me. Forse il prossimo anno dovremmo iscriverci alla gara per chi mangia più torte. Brava, signor Porter! Sì, lo sapevo. È davvero squisita. Bene, signore e signori. Ora facciamo un bel applauso per il signor Porter e le sue torte. E adesso tocca la band della Poppa Troll. Coraggio, Cuccioli. Tocca a noi. Sbrigati, Rubble. Attimo lavoro, Cuccioli. Può aprire. Ora vediamo se funziona tutto. Mi sentiva proprio un magneto prima dello spettacolo. Grazie, Poppa Troll. Ora il campo avrà l'acqua di cui ha bisogno. In ogni occasione, noi siamo a disposizione. Coraggio, andiamo. Dobbiamo correre al talent show. In bocca al lupo, Cuccioli. Sta tranquillo, Marshall. Non devi cantare se non te la senti. Ma non vorrei deludere la band della Poppa Troll. Sì! Amo scavar, amo abbaiar. Nel fango correre per giocare. Muovere la coda un po', riposare solo un po'. Ma se vuoi... Un po' d'aiuto! Puoi chiamarmi, sì! Puoi chiamarmi, puoi chiamarmi, sì! Urulliamo tutti insieme. Pronti ad abbaiar. Zampe in su, zampe in giù. Adesso urula anche tu. Grazie per essere arrivati presto. Rimettiamo in piedi il fienile. Rubble e Rocky servono dei tronchi molto lunghi per sostituire i pali mordicchiati. C'è del legname qui intorno che possiamo utilizzare. Semaforo verde! Ryder, Zampe è andata da questa parte. Cerca di rintracciarlo al più presto, prima che riesca a mangiare qualcos'altro. Tranquillo, ci pensa Chase! Allora, appena innalzata la parete, noi la terremo dritta, mentre Rocky la fisserà. Pronti, cuccioli? Se serve aiuto, Rubble arriva in un minuto! È stabile! Rocky! Abitatore! Fatto! Speriamo che regga! C'è solo un modo per scoprirlo. Rubble? Credo che sia stata fissata bene. Oh, grazie, cuccioli. Come sono felice di rivederti! Stanno mangiando il mio albero! Stanno! Ryder! Ho trovato un altro castoro! E c'è anche un altro castoro! E rossigliano come... come dei castori! ora ho capito! I castori comunicano tra di loro sbattendo la coda! È semplicissimo! Ce l'abbiamo fatta! Ci sono due castori in arrivo, Ryder! Grazie, Chase! Grazie, Chase! Coraggio, piccoli castori! Siete a casa! Ottimo lavoro, cuccioli! Ora c'è abbastanza legna per ricostruire la tana dei castori! Bravissimi, cuccioli! Ciompi sarà soddisfatto della sua nuova casa! A me sembrano molto felici! Smettetela di mangiucchiare i fienili! La prossima volta non rosicchiate quello che vi capita! Chiedete aiuto? O sbattete la coda? A noi! La tana dei castori ha uno scivolo nello stagno! Possiamo provarlo, Ryder! Accomodatevi! Siete stati proprio dei bravi cuccioli! Arrivo! Coraggio, Rocky! Vieni a fare il bagno! No, grazie! Io rimango qui a prendere il sole! Il trampolino è pronto all'uso, Ryder! Ottimo lavoro, Rocky! Rubble, è giunto il momento di aiutare Rocky a montare il trampolino sul canyon! Rubble come un razzo! Risolveremo la situazione alla maniera della Po-Potrol! Cuccioli, al mio tre dovrete afferrare il trampolino! Uno, due, tre! Bella presa! Sky, dove sei? Credo di essere vicina, Ryder! Aspetta, fammi controllare! Occhiali! Vedo che l'antenna si è piegata! Allora prima dobbiamo ripararla! Come va il trampolino, Rubble? No! Un elastico è sistemato! Ne mancano tre! Ottimo lavoro! Continuate! Ryder, ho raggiunto il satellite! Riparo subito l'antenna! Sei stata bravissima, Sky! Spegnere Jet! Arrivata! Ho raddrizzato l'antenna! Ottimo lavoro, Sky! Questo era l'ultimo! Vuoi provare il trampolino? Che domande fai? Un doppio giro a 720 gradi! Questo trampolino è fantastico! Ryder, il trampolino è pronto all'uso! Ottimo, cuccioli! Tornata all'Air Patroller! Super speciale di Apollo in Super Cucciolo! Arriviamo! Allora, Sky! Ora gira il satellite in modo che si diriga verso il canyon dei serpenti assonagli! Ricevuto, Ryder! Jet! Così, Sky! Ancora un po'? Ferma! Ecco fatto! Ottimo lavoro, Sky! Rientra pure! Aspetta! Si è incastrata un'ala! Il satellite punta sulla baia! Se cade in acqua sarà un disastro! Riesci a spostarlo, Sky? Si, provo! Ma sono talmente scombucciolata che non vedo bene! Allora aspetta e ritrova l'equilibrio! Zuma, vai alla baia e assicurati che non ci siano pesci nei paraggi! Nel caso non riuscissimo a spostare il satellite! Tu, stiamoci dentro! Sono pronta, Ryder! One, set! Sì! Così ci sei quasi... Ferma! È perfetto! Tutto a posto! Ottimo lavoro! Torna pure ora! Anche tu, Zuma! La baia è salva! Fantastico! Ecco il satellite! Non posso guardare! Centro! Sì! Viva! Restate con noi! Il super speciale di Apollo e il super cucciolo sta per iniziare! Hooray! Hooray! Vedremo Apollo! Sì! Grazie infinite, Ryder! Sei riuscito a sistemare tutto giusto in tempo! In ogni occasione, noi siamo a disposizione! Sono arrivati Ryder e la Paw Patrol! I binari sono intatti! Dobbiamo solo togliere le rocce di mezzo e poi spostare il treno dal ponte! Rubble come un raggio! Woo! Controllo se ci sono stati danni al ponte! Non so per quanto potrà reggere ancora! Come un raggio! Oh-oh, Rocky! Un pilastro sta cedendo! Aspetta un attimo, Ryder! Non riesco a sentirti! Dimmi pure! Un pilastro sta per cedere! Se si rompe il treno, precipiterà! Ci serve qualcosa per sostenerlo! Ho trovato! Ci servirà uno di quei tronchi vicino alla strada! Rocky, puoi portarne uno giù! Non credo di potercelo fare! Il mio camion non può scendere fino all'aggiu, Ryder! È troppo ripido! Allora ci servono delle zampe extra! Chase, prendi il camion e vieni al ponte il prima possibile! Questo caso fa per Chase! Vieni! Eccomi, Ryder! Di che cosa hai bisogno? Abbiamo bisogno del tuo cavo per trasportare giù questo tronco! Dobbiamo sostenere il pilastro! Questo caso fa per Chase! Perfetto! Diamoci da fare! Ancora un altro po'? Bene, Chase! Perfetto! Così va bene! Che cosa te ne pare? Adesso è a posto! Così terrà finché non sposteremo il treno dal ponte! Qua su, ho tolto tutte le rocce, Ryder! Grazie, Rubble! Katie, di al macchinista che le rotaie sono sgombre! Portiamo il treno al sicuro! D'accordo, Ryder, ma sono preoccupata! Preoccupata! Kali è scomparsa! Lo avete sentito? Eh, Kali! Chase, puoi... Questo caso fa per Chase! Kali, come sono felice di rivederti! Oh, Kali! È stato... Echì! Un piacere! Sapevo che Ryder e la Paw Patrol ce l'avrebbero fatta, ma dov'è Kali? Kali, che gattina birichina! Grazie per averla salvata, Chase! Sei proprio un bravo cucciolo! Non c'è... Di che? Faccio solo il mio dovere di cucciolo! Sì! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Eccovi, finalmente! È un vero disastro! Il binario è a pezzi! Questo vagono è troppo pesante da spostare! E il prossimo treno arriverà soltanto tra poche ore! Se c'è qualcuno che può mettere le cose a posto, è la squadra Paw Patrol! Chase, sposta il vagone merci, così potremo riparare i binari per il prossimo treno! Ci metto un minuto, signore! Bel lavoro, Chase! Ok! Sei stato grande, Chase! Queste rotaglie sono rotte! E guardate... Questa qui! Rubble! Va tutto bene? Certo! Sto bene! Alla grande! Ai! Sono ferito! È il caso che Kati controlli questo cucciolo! Ora chiamo subito il macchinista e gli dirò di fermare il treno! Pronto? Pronto! Pronto! Il macchinista purtroppo non risponde. Come sta Rubble? Ha una zampa sblogata. Mettici il ghiaccio e stai fermo. Non posso stare fermo, Kati! Ho un binario da riparare e in fretta! Invece ti riposerai. Qualcun altro guiderà la tua scavatrice. Puoi farlo tu, Ryder. Sei stato tu a insegnarmi a guidarla, ricordi? Io però non sono sicuro di essere della taglia giusta. Ma farò un tentativo. Non ce la faccio. Passiamo al piano B? E qual è il piano B? Sei tu, Chase. Ah? Io non lo so. Non ho mai guidato la scavatrice di Rubble prima d'ora. Non preoccuparti. Ci sarò io ad aiutarti. Pronto? Certo, ci pensa Chase, signore. Ok, è semplice. Premi il pulsante verde per partire. Non è difficile. E adesso? Ora spingi il pulsante più grosso. Dai gas e lascia il freno. Il pulsante più grosso. Dare gas. Un momento, il freno! Più piano, troppo gas. No, quello è il trapano. Da dove spunta questa discesa? Chase! Il pulsante rosso, fermati! Chase, stai bene, vero? Sono un po' stordito, ma sto bene. Il treno si sta avvicinando alla stazione. Non abbiamo più molto tempo. Mi dispiace, Ryder. È che ho sbagliato a seguire le tue istruzioni. Proprio come ho fatto con Pop-Up Boogie. Ci sono. Io griderò le istruzioni. E tu dovrai ripeterle. Proprio come Sky ha fatto con il Pop-Up Boogie. Sì! Prima, premi il pulsante quadrato a sinistra. Pulsante quadrato? Che cos'è? È la radio. Premilo. Vabbè, Pop-Up Boogie! Va bene. Pronto? Uno, due, tre e... Zampa a sinistra sulla leva. Zampa a sinistra sulla leva. Zampa a destra spinge il gas. Zampa a destra spinge il gas. Ehi, si sta muovendo. Niente male. Wow! Ahu! Zampa a sinistra, pulsante nero. Zampa a sinistra, pulsante nero. Oh, sì! Ce l'ho fatta! Ahu! Molto bene. Ora dobbiamo soltanto montare i nuovi binari. Fiu! Abbiamo finito. Il binario è a posto. E giusto in tempo arriva il treno. È arrivato il nuovo Papa Boogie 2. Oh, sì! Che bello! Sì! Oh, sì! Ah, che bello! Ryder, posso andare a giocare? Cioè, a ballare con Sky? Ma certo che puoi. Sei stato davvero grandioso. Bravo, cucciolotto. Scusate se vi ho fatto svegliare così presto, cuccioli. Ho ricevuto una telefonata dal signor All e la signorina Yumi. Il vento ha portato via tutte le decorazioni nuziali. E una parte del fienile. Oh no! Il matrimonio è rimandato! Non ancora. Sarà dura, ma io credo che potremo aggiustarlo. Rubble, la tua gru servirà per trasportare la legna per le riparazioni. Rubble, come un razzo! Rocky, i tuoi attrezzi serviranno per sistemare le tegole e la parete del fienile. Riciclare è meglio che buttare. Go, Paw Patrol! Grazie di essere venuto, Ryder. Hai visto in che stato è il fienile? Forse dovremmo rimandare il matrimonio. Io credo che lo ripareremo in tempo. Diamoci da fare! Lascia quelle assi qui, Rocky. Grazie. Come faccio ad arrivare là sopra? Ti do un passaggio, amico. Grazie, Ali. Abbiamo radunato tutte le tegole. Oh, come sono carini Emma e Connie insieme. E adesso, cuccioli, siete pronti ad alzare la parete? Sì, sì, sì! Tocca a te, Rubble. Ah! E così! Ma aiuto! Oh-oh! Marshall? Credo di essere rimasto incastrato mentre la tiravate su! Non ti preoccupare. Salta! Whee! Grazie, Ryder. Martello! È arrivato il cibo! Sbrighiamoci! Fatto! Bel lavoro, ma non abbiamo ancora finito. Ogni fienile ha il suo segnavento. Il fienile è praticamente come prima. Viva! Anche tutte le decorazioni. Attimo lavoro, cuccioli. La Pou Patrol ha salvato il matrimonio. Grazie infinite, Ryder. Non ce l'avrei fatta senza i cuccioli. Siete davvero meravigliosi. Ma dov'è l'altra coppia di piccioncini? L'altra coppia? Oh, gli sposini sono arrivati! Emma e Corney. Anche loro si sposano. Una coppia di porcellini perfetta. Hal e Yumi. Corney ed Emma. Io vi dichiaro marito e moglie e porcellino e porcellina. Potete baciare le spose. È così emozionante. Oh, ecco il problema. La ruota che sostiene il cavo è caduta. Oh, però, che occhio, Rocky. Non possiamo aggiustarla se prima non facciamo scendere Katie e Kali. Dopo averle fatte scendere Rocky, tu riparerai la ruota e userai le pinze per rimetterla al suo posto. Ci penso io. Ottimo. Resisti, Katie. Vi tireremo giù. Grazie, Ryder. No, Kali. Ci vorrà ancora un po' di tempo, ma andrà tutto bene. Rubble, vieni. Ti mostro dove sono bloccate Katie e Kali. Sono proprio laggiù. Forte. Marshal. Sto bene. Anche quello è un modo per scendere a valle. Io ne userò un altro. Non provate a rifarlo voi a casa. Stai bene, Marshal? Sto bene. Sono qui per aiutarvi a scendere. Leno male, perché fa freddo e sto cominciando a tremare. Tranquilla, ti tirerò giù dalla seggiovia. Appena mi sarò tirato fuori dalla neve. Tutto bene, amico? Sì, ma ho la coda un po' congeleata. Allora, Ryder, qual è il piano? Non possiamo usare la scala di Marshal qua giù, quindi dobbiamo costruirne una. Come? Una scala? Una bella scalinata di neve. Che ne dici? Sì, una scala di neve. Così? Sarà perfetta. Dovrebbero bastare. Ehi, Ryder. Kelly è completamente intirizzita. Ti do una mano. Grazie, Ryder. Kelly, stai bene? Kelly! Marshall! Kelly, stai bene? E tu stai bene, Marshall? Sì, sto bene. Ma sono stanco di fare il pupazzo di neve. Grazie per averci salvato. Sarebbe stata una notte terribile su quella seggiovia. In ogni occasione, noi siamo a disposizione. Certo, altrimenti non avrei potuto fare snowboard. Come procede lassù, Rocky? Dovrei aver finito. Rocky, sei un vero genio. Chi vuole verificare se la seggiovia è a posto? Io, io, io. D'accordo. Tutti quanti meritate una bella sciata. Perché siete dei bravi cuccioli. Evviva! 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 Andiamo! Che cuccioli! Bravi più che mai! Ma adesso è tempo di giocare al Venture Bay! Pa, 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 pa Ha, 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 ha!